Da domani il Consorzio Promovetro di Murano distribuirà 60.000 opuscoli a tutela dell'unicità del vetro millenario muranese. Murano, Venezia, mille anni di storia. Vogliamo davvero buttarli via? Promovetro ci mette il cuore per arrivare al cuore intorpidito dei cittadini, raggiunti casa per casa, attività per attività dagli opuscoli del Consorzio. Gestisce il marchio di autenticità garantito dalla Regione del Veneto. Il Consorzio raccoglie 50 fornaci muranesi, non tutte. Il presidente, Luciano Gambaro. Molti sfruttano il prodotto di Murano in maniera malevole, vendendo prodotti che in realtà con Murano hanno poco a che vedere. Pullula il vetro made in chissà dove, pacottiglia cinese o delocalizzazione a corto raggio in terraferma per tagliare i costi, il gioco sporco di certi veneziani è disprezzo e tradimento di Venezia. Serve trasparenza. Il Consorzio scuote tutta la filiera, mediatori compresi, guide, gondoglieri, taxisti, portieri d'albergo. La crisi, sommata agli affitti gravosi dei negozi, spazza via la tolleranza degli anni buoni. Un commerciante. Ognuno, ripeto, può fare quello che vuole. Pur che non venga spacciato, prevetro fatto a Murano. Uno di questi opuscoli lo recapitate anche al sindaco di Venezia e all'assessore alle attività commerciali, a proposito di licenze per le aperture di certi negozi. Sicuramente sarà la nostra cura farlo. Piazza San Marco, tutto a un euro o quasi, accanto al caffè Lavena, quello di Wagner. Io penso che sia una cosa scandalosa, perché in tutta Venezia ci sono questi negozi. Scrive Promo Vetro, Venice Land, brutte botteghe nel salotto più bello. Non si può andare per il sottile di questi tempi. Negare autorizzazioni sarebbe negare posti di lavoro, ma concederne indiscriminatamente ne manda in frantumi molti più sul fragile mercato del vetro perché il Made in Chissà Dove, denuncia il consorzio muranese, infligge danni enormi alle imprese e ai rivenditori seri e uccide la città. Meno occupazione solida, meno abitanti.